Parte la stagione sportiva della Chemas Lami Pelle Lupi Pallavolo, stiamo parlando ovviamente di Serie A2, di questa disciplina sportiva. Parte proprio oggi il raduno qui al Palaparenti e siamo con il direttore generale Dario D'Aroite. Allora, innanzitutto ben ritrovati. Buongiorno a tutti, ben ritrovati voi. È passato tanto tempo ma sembra che sia passato proprio poco, poco tempo. Ci siamo salutati qualche mese fa con una semifinale importante contro una squadra che poi aveva vinto il campionato e ci siamo ritrovati qui in un batter d'occhio oggi pronti di nuovo ad incominciare un'altra importante stagione, però c'è un'età importante come quella dei Lupi. La tua seconda stagione al timone come dirigente di questa gloriosa società sportiva dove l'anno scorso, ricordiamo, abbiamo festeggiato, visto che abbiamo fatto la presentazione insieme, i 60 anni appunto delle Lupi Santa Croce. Allora, una squadra veramente innovativa, avete confermato il coach, lo sentiremo più avanti. Le tue impressioni? Te sei stato un grande giocatore per tanti anni di Serie A. Quest'anno abbiamo voluto puntare su Michele perché comunque il finale di stagione è stato un finale di stagione importante che ha dato a noi segnali importanti. Credo molto nel discorso di creare uno staff, che sia uno staff del territorio, che creda in un progetto, che crea abbia ambizioni e si senta partecipe della terra in cui vive. Quindi la riconferma di Michele è una riconferma importante, crediamo molto nel suo lavoro. A noi, ripeto, è piaciuto molto come ha portato la scorsa stagione in fondo la squadra. Quindi era giusto, secondo noi, secondo la società, dargli un'opportunità perché crediamo fortemente in quelle che sono le sue capacità. È un ragazzo giovane, con grande volontà, ha bisogno di aiuto, ovviamente, perché si troverà quest'anno al timone di una società e di una squadra importante. È il suo primo anno da primo allenatore, ha sempre avuto esperienze come secondo. Quindi noi siamo qui, come io, che rappresento ovviamente la società, tutta la società, ma soprattutto tutto lo staff, pronti ad aiutarlo in ogni momento perché comunque, come sappiamo tutti, le stagioni hanno momenti importanti e momenti un po' meno importanti. Dovremo essere bravi noi come società e lo staff, i tifosi, voi tutti, a cercare di rendere questo percorso di Michele il più agevole possibile verso la fine della stagione.